Le acque minerali non sono buco uguali, rocchetta, giorno-roccetone, miniatura, la tostina e il liquido di eccesso e lo fanno in modo più semplice e naturale, facendo che fai tanto agitivi, rocchetta, acqua della salute, puli il mio contro i belli cuori e mi mantengo in linea, porto sbattuare il tuo sorriso, uno sbattuato può essere causa di carri e sensibilità Ah Grazie a tutti. Grazie a tutti. No! No!